del carcere e si chiama Qui dentro. Nel disco poi c'è questa lista finale di nomi dei detenuti che è parlata insieme a me con Valerio Massa Andrea e si chiama Qui dentro. Nel disco poi c'è questa lista. 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 Nel disco poi c'è. 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 Questa è la nostra vita, questo è il nostro domani, questa è la nostra ragione, questa è la nostra riferazione, questa è la nostra riferazione, questi persunti innocenti, indossi al sicilio, questi nostri dolori, questa è la nostra dignità, questa è la nostra potenza, questa è la nostra resistenza. Questa è il mio padre, il nostro cuore, c'è il suo braccio, la mia libertà, qui è dentro, qui è dentro, il sole è fuori, qui è dentro, qui è dentro, qui è dentro, il sole è fuori, è dentro, qui 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 è carcere liberante andrà giù a te per la prima sessione di posto spizio Francesca, carcere incontro, sardi carcere dell'essandria, 4 anni a domenica 4 su 24 noi, madri nel carcere di opera e per rispetto a speranza nel carcere di soggia arrivateci essere venuti ogni 22 anni 26 anni, carcere in Italia verso figlio di 20 giorni 12 seduti nel carcere di progetto reale Sebastiano e altri 161 del carcere di San Vittorio di Milano Giovanni, sui anni dal carcere di Foggia carcere di Gemini e di Santa Maria Capoletere donne che tu non pensi mai Rosalba, 10 in una cellula Mirko e Cristian dal carcere di 10 in una cellula Emanuele dal carcere di Castanissetta Aniello, io nella doccia di Comigliano primo, io e te la posso nuova nella piena carcere di Padova e la sapore la nostra cella di Ariadventino di Merea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti